Ti piacerebbe scrivere un film con la tua classe? Interpretarlo con i tuoi compagni? Lavorare con una vera troupe cinematografica? E allora che cosa aspetti? Manda un breve soggetto a Chuck Junior, gruppo Alcuni. Tra i soggetti pervenuti ne sceglieremo tre, che diventeranno dei bellissimi cortometraggi che andranno in onda a maggio su Canale 5. Non perdere questa occasione!